Benvenuto a Imparo giocando con Tom Susie, Millie e Biff Tanto, tanto tempo fa Ciao, che bello rivederti Siamo pronti per le nuove fantastiche avventure di Imparo giocando con Tom Susie, Millie e Biff Siamo in un museo di storia dove hanno ricostruito un villaggio dell'età della pietra Vieni con noi Fai clic sull'etichetta con il tuo nome Se questa è la prima volta che giochi con noi Fai clic sulla stella Urrà, sei tu! Ti aspettavo Siamo in un villaggio dell'età della pietra Vieni a visitarlo insieme a noi Ciao Guarda dove siamo venuti oggi Siamo tornati Indietro nel tempo Fino all'età della pietra L'età della pietra Fu tanto, 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 tanto Millie? Tanto! Tempo fa Questo è un museo di storia molto speciale Dove hanno ricreato un villaggio dell'età della pietra Così possiamo scoprire come si viveva tanto, 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 tanto Tempo fa Ci sono delle pitture su roccia Una casa di legno Delle pecore La riproduzione di un fuoco per cucinare E tantissime attività da fare Nell'età della pietra Gli uomini fabbricavano i propri attrezzi Con bastoni, pietre e ossa di animali Dopo farò un vaso con l'argilla Io dipingerò come facevano gli uomini preistorici Io voglio andare a caccia di dinosauri Tom! Quando l'uomo comparve sulla terra I dinosauri si erano già estinti Che peccato! Beh, allora andrò a caccia di un mammut Non credo che il pentolone sia abbastanza grande Da farci entrare un intero mammut Beh, allora ne troverò uno piccolo Millie, cosa stai cucinando? Mmm, sento già un certo appetito Sto cuocendo del cibo che si usava a mangiare nell'età della pietra Cosa mangiavano nell'età della pietra? Soprattutto verdure Cosa? Niente salsiccia? O formaggio? Temo di no Allora non penso di avere poi così tanta fame Hai dato un'occhiata al villaggio dell'età della pietra? Fai clic in vari punti dello schermo Oppure fai clic su di noi per fare i nostri fantastici giochi Alla fine dell'età della pietra Gli uomini cominciarono ad allevare gli animali Per procurarsi cibo, pelli e lana Le verdure stanno bollendo Cominciamo a giocare Ciao! Al Museo di Storia Naturale Proiettano su uno schermo delle fantastiche immagini di animali Che vivevano tantissimi anni fa Alcuni, addirittura prima che sulla Terra comparisse l'uomo Hanno dei nomi stranissimi Nel corso di milioni di anni Questi animali hanno subito delle trasformazioni L'insieme di tutte le trasformazioni Viene definito evoluzione Come risultato della loro evoluzione Alcuni di essi sono diventati come noi li vediamo oggi Anche la specie umana ha subito delle trasformazioni Infatti, secondo gli scienziati L'antenato dell'uomo è la scimmia In questo gioco vedremo un animale preistorico alla volta E tu dovrai indovinare quale animale dei nostri giorni È il suo parente più stretto Fai clic sul nome dell'animale giusto Qui, quando avrai abbinato sei animali Ti darò un pezzo del puzzle Oh, che animale è questo? Questo è uno Smilodon Chiamato anche tigre dai denti a sciabola Guarda che denti enormi! Qual è il suo parente più stretto Tra questi animali dei nostri giorni? Complimenti! Lo Smilodon, o tigre dai denti a sciabola Era un terribile felino Un po' più piccolo di un leone Ma molto più pesante Viveva i tempi in cui l'uomo Aveva già fatto la sua comparsa sulla terra Anche al giorno d'oggi esistono grandi felini Ma hanno i denti incisivi molto più piccoli Ecco un altro animale Questo animale con una corazza si chiama Gliptodonte Fai clic sul nome dell'animale che gli assomiglia Scegline un altro Indovinato! Il Gliptodonte era un armadillo preistorico Vissuto oltre 15.000 anni fa Era grande come un'automobile E aveva il corpo ricoperto da una robusta corazza Vediamone un altro Eccone uno facile Questo è un mammut Se non avesse la pelliccia così folta A quale animale assomiglierebbe? Fai clic sull'animale di oggi Che pensi sia il suo parente più stretto Giusto! Il mammut era un elefante primitivo È vissuto in un periodo chiamato Era Glaciale Quando gran parte delle zone settentrionali della terra Erano ricoperte di neve e di ghiaccio È già una settimana che mi esercito A pronunciare i nomi di questi animali Sono così difficili Ecco un altro animale Questo animale marino si chiama Basilosauro Fai clic sull'animale di oggi Che pensi sia il suo parente più stretto Il Basilosauro era un antenato della balena Ha abitato i nostri mari milioni di anni fa Vediamone un altro Questo piccolo animale si chiama Eoippus Qual è il suo parente più stretto Tra questi animali dei nostri giorni? Guarda ancora Non va ancora bene Lascia che ti mostri il parente di questo animale Eoippus è stato il primo esemplare di cavallo Ed è vissuto milioni di anni fa Era alto circa come un cane E i suoi arti avevano almeno quattro dita I cavalli di oggi invece hanno un dito solo Rivestito da uno zoccolo Questo animale si chiama Celodonta Ti fa venire in mente un animale che ha due corni simili? Fai clic sul nome dell'animale che gli assomiglia Il Celodonta Era un rinoceronte ricoperto di pelo Che viveva in un periodo freddissimo Chiamato Era Glaciale La sua folta pelliccia lo teneva molto caldo Fantastico! Hai abbinato tutti e sei i gruppi di animali Visto che te la sei cavata così bene Ti meriti un pezzo del puzzle Vuoi giocare ancora? Se vuoi giocare ancora fai clic sullo schermo del museo Se invece vuoi tornare dagli altri fai clic sul pulsante con la casa Ciao! Sono di ritorno dalla caccia Hai preso qualcosa Tom? Sì, ho preso un mammut Wow! Sei molto coraggioso Tom! I mammut erano grandi e assomigliavano a un elefante Avevano delle enormi zanne e una lunga e folta pelliccia Mmm beh, quello che ho preso io non è così grande Non è per caso uno di quei mammut giocattolo che vendono nel legazio del museo? Può darsi! Più tardi ne voglio comprare uno anch'io Anche noi siamo stati impegnati in tante attività Io ho fatto un vaso d'argilla È molto bello, Biff Come si può utilizzare? Ehm, ho voluto fare un vaso per trasportare l'acqua Ops! È la prima volta che provo a fare un vaso di argilla Come primo tentativo sei stato molto bravo, Biff Sto per andare a una lezione di pittura dell'età della pietra Prova a fare i nostri fantastici giochi Oppure fai clic qui intorno E avrai delle belle sorprese Occipicchia Occipicchia Giochiamo! Ciao! Queste persone dell'età della pietra hanno intenzione di costruire un muro Questo è Og Un uomo molto abile nel costruire muri Questo è Ug Suo figlio E questa è Aga La moglie di Og In questo gioco tu potrai aiutare questa famiglia dell'età della pietra A costruire il muro Dovrai scegliere la parola giusta fra quelle scritte su questi blocchi di pietra Per completare la frase che vedrai sul muro La scelta sarà fra quattro parole simili da non confondere E La congiunzione usata per collegare due elementi di una frase E La terza persona singolare del verbo essere A Una preposizione molto usata A La terza persona singolare del verbo avere Fai clic sulla parola giusta Ed essa apparirà nella frase sul muro Così! Quando passerai col mouse sulle parole scritte sui blocchi di pietra Io le pronuncerò Ma prima di tutto ho bisogno di sapere come te la cavi con queste parole Se a scegliere la parola giusta te la cavi bene Fai clic sul pulsante blu Se invece scegliere la parola giusta è la tua grande specialità Fai clic sul pulsante arancione Fantastico! Quando avrai completato sei frasi ti darò un pezzo del puzzle Siamo pronti per cominciare? Cominciamo con la costruzione del muro Ecco la prima frase Og pensa Cosa mangiare? Scegli la parola giusta E facci clic sopra A Esatto! Og pensa a cosa mangiare Ecco un'altra frase Aga In cerca di pietre Scegli la parola giusta da inserire in questa frase Mi dispiace Riprova A Non è ancora la risposta giusta Ti aiuto io Aga è in cerca di pietre Vediamo la prossima frase Og Aga dipingono sulla roccia Scegli la parola giusta E facci clic sopra E Hai sbagliato Prova un'altra volta E Giusto! Og e Aga dipingono sulla roccia Eccone un'altra Og Insieme al figlio Scegli la parola giusta da inserire in questa frase Prova con un'altra parola Non è ancora la risposta giusta Ti aiuto io Og è insieme al figlio A proposito di muri Lo sapevi che la grande muraglia cinese È così lunga Che si vede persino dallo spazio Vediamo la prossima frase La madre di Hug Nella sua caverna Scegli la parola giusta da inserire in questa frase Peccato! Riprova! Ah! Non è ancora la risposta giusta Ti aiuto io La madre di Hug È nella sua caverna Ecco un'altra frase Aga Andata a radunare le galline Scegli la parola giusta E facci clic sopra Prova con un'altra parola Non è ancora la risposta giusta Ti aiuto io Aga è andata a radunare le galline Fantastico! Hai completato sei frasi! Visto che te la sei cavata così bene Ti meriti un pezzo del puzzle Ti va di giocare ancora? Se vuoi giocare ancora Fai clic sulla figura Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Eccoti di nuovo! Ho dipinto con la tecnica che veniva utilizzata nella preistoria Ho usato le mani al posto dei pennelli E si vede Susi! Il tuo dipinto è molto bello Solo che c'è un problema Quale, Biff? Ci hai inserito un'automobile Mentre nell'età della pietra Le automobili non esistevano ancora Oh, hai ragione Che buffo Mi sono molto divertito a rivivere l'età della pietra Però sarò contento quando a casa ritroverò i miei giocattoli moderni Adesso però hai anche un mammut dell'età della pietra con cui giocare Già, gli dovrei dare un nome adatto per l'età della pietra Come lo vuoi chiamare, Tom? Che ne dite di... mammut? Credo che il pranzo sia pronto Qualcuno vuole un po' di verdure? Io preferisco mangiare quando saremmo tornati a casa Forse mammut ne vuole un po' Chissà che appetito che ha Spero che tu ti stia divertendo Fai clic su di noi per fare i nostri giochi Occipicchia Cominciamo a giocare Ciao! Ti va di giocare con delle figure simmetriche? La linea tratteggiata che vedi in ogni figura si chiama linea di simmetria Questa linea divide ogni figura in due parti uguali che hanno la stessa forma e la stessa dimensione Ma una delle due parti appare come se fosse riflessa in uno specchio Ti presento Isis Una fabbricante di gioielli dell'età della pietra Che deve abbinare pietre di varie forme con le quali fare collane per gli abitanti del suo villaggio In questo gioco vedrai solo la metà di tre figure in sequenza con la linea di simmetria Come queste o queste Tu dovrai scegliere le figure che vi si abbinano Facendo clic e trascinandole al posto giusto così Ma prima di cominciare ho bisogno di sapere come te la cavi a individuare le figure simmetriche Se con le figure simmetriche te la cavi bene Fai clic sul pulsante blu Se invece le figure simmetriche sono il tuo forte Fai clic sul pulsante arancione Quando avrai ricomposto sei gioielli Ti darò un pezzo del puzzle Ecco i primi tre Fai clic sulle parti giuste E trascinale al loro posto Esatto! Abbinane un'altra Non è la parte di gioiello giusta Ottima scelta! Ne rimane solo una da abbinare Bene! Ecco l'ultimo gruppo di gioielli Giusto! Quale gioiello ti rimane sempre incollato addosso? La colla? No! Haha! Adesso prova ad abbinarne un'altra Esatto! Ne rimane solo una da abbinare Esatto! Fantastico! Hai abbinato tutte le figure simmetriche Visto che te la sei cavata così bene Ecco per te un pezzo del puzzle Ti va di giocare ancora? Se vuoi giocare ancora Fai clic su Isis Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Cominciamo a giocare! Ciao! Benvenuto agli scavi archeologici! C'è un archeologo impegnato a cercare oggetti che risalgono a tantissimo tempo fa Per scoprire come vivevano gli esseri umani migliaia di anni fa Gli archeologi fanno degli scavi nelle zone dove pensano siano vissuti Sotto terra ci possono essere i resti di oggetti antichi Ma spesso sono ridotti in frantumi Un archeologo deve cercare di rimettere insieme tutti i frammenti degli oggetti Per scoprire quale fosse il loro utilizzo tantissimi anni fa In questo gioco mi devi aiutare a rimettere insieme i frammenti degli oggetti Che l'archeologo ha riportato alla luce Per aiutarti ti farò vedere dei frammenti già sistemati E delle linee che ti mostreranno i contorni delle parti mancanti Devi fare clic sui frammenti e trascinarli al posto giusto Quando avrai ricomposto due oggetti ti darò un pezzo del puzzle Cerca di sistemare il primo frammento Esatto! Adesso cerca di sistemare un altro frammento Cerca di metterlo da un'altra parte Giusto ci sta! Continua! Complimenti! Continua a sistemare i frammenti Continua! È rimasto da sistemare un solo frammento Grande! Lo hai ricomposto! Questa è una conchiglia Le conchiglie grandi venivano spesso utilizzate come piatti Per mangiarci diversi cibi Come bacche, cereali e verdure Rimane un solo oggetto da completare Comincia a sistemare il primo frammento Bel lavoro! Adesso cerca di sistemare un altro frammento Complimenti! Continua a sistemare i frammenti Bel lavoro! Continua a sistemare i frammenti Non è il posto giusto Continua! È rimasto da sistemare un solo frammento Prova un'altra volta Bene! Lo hai completato! Questo è un vaso di argilla Veniva usato per cucinare e per conservarci il cibo Visto che te la sei cavata così bene Eccoti un pezzo del puzzle Vuoi giocare ancora? Se vuoi giocare ancora Fai clic sulla figura Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Benvenuto a movimento Il puzzle animato per il tuo divertimento Guarda! Hai un pezzo di puzzle che puoi già sistemare Vediamo se riesci a capire dove va E poi trascinalo al suo posto Giusto! Ci sta! Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Esatto! Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Giusto! Ci sta! Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Esatto! Complimenti! Questa parte del puzzle è completa Ora fai clic sulle figure E guarda cosa succede E non dimenticare Ci saranno altri quattro pezzi di puzzle Nel prossimo numero di Imparo Giocando Con Tom, Susie, Millie e Beef Ciao! Brrrr! Qui fa un gran freddo Sono contento di essere al riparo In questo accogliente igloo Mi sta venendo una gran fame Ma purtroppo qui non c'è Del buon formaggio da mangiare Spero che non voglia infilarsi anche lui dentro l'igloo Meglio nascondersi Fai clic in vari punti dello schermo Per vedere cosa succede Però fai attenzione Non vorrei che prendessi un colpo di freddo Ciao! Ah ah ah! Viği vii! Viiiii vii! Benvenuto al laboratorio della creatività In questo gioco puoi creare le tue speciali banconote di imparo giocando con cui giocare Non sono soldi da spendere nei negozi ma puoi usarli per giocarci a casa Queste sono le banconote che vedrai ogni volta che comincerai a giocare Puoi cambiarne il colore facendo clic sul pulsante arcobaleno Puoi cambiarne la figura facendo clic sul pulsante figura E puoi cambiarne lo stile facendo clic sul pulsante stile Quando le banconote che avrai creato ti soddisferanno potrai stamparle facendo clic sul pulsante della stampante Fai clic su uno dei pulsanti sulla destra per creare le tue banconote Bene! Per stampare le tue banconote fai clic sul pulsante della stampante Sto mettendo da parte un po' di soldi nel mio salvadanaio per comprare il nuovo CD del mio gruppo preferito Per stampare le tue banconote fai clic sul pulsante della stampante Se invece vuoi tornare dagli altri fai clic sul pulsante con la casa Sto mettendo da parte un po' di soldi nel mio salvadanaio per creare le tue banconote fai clic sul pulsante della stampante Se invece vuoi tornare dagli altri fai clic sul pulsante con la casa Sto mettendo da parte un po' di soldi nel mio salvadanaio per creare le tue banconote fai clic sul pulsante Sto mettendo da parte un po' di soldi nel mio salvadanaio per creare le tue banconote fai clic sul pulsante